Benvenuti su News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti più recenti, vi invitiamo calorosamente a dimostrarci il vostro sostegno mettendo un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale, poiché per noi ciò è di fondamentale importanza. Grazie, nella calma serata di venerdì, il Marocco è stato scosso da una violenta e spaventosa scossa tellurica che ha lasciato una scia di distruzione e disperazione in tutto il paese. Con una magnitudo di 7.0, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica del Marocco, il terremoto ha avuto il suo epicentro nel comune di Gil, a sud di Marrakesh, a una profondità di 8 chilometri. Le prime notizie che trapelavano dai media locali facevano temere il peggio. Con almeno 30 morti confermati inizialmente. Tuttavia, le voci dell'emittente televisiva Arabia parlavano di un numero ben più elevato di vittime, stimando 93 morti, di cui 70 a Marrakesh. La situazione era già disastrosa, ma la realtà si è rivelata ancora più drammatica quando il Ministero dell'Interno ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando uno scioccante bilancio, almeno 296 morti, decine di dispersi e oltre 150 feriti gravi ospedalizzati. Immagini agghiaccianti provenienti dalla zona colpita mostrano edifici che si sono sgretolati all'improvviso, persone in fuga per le strade e piazze improvvisamente trasformate in posti letto per i feriti. I soccorritori lavorano instancabilmente per cercare sopravvissuti e fornire assistenza alle vittime. Molte persone rimangono intrappolate sotto le macerie, inaccessibili nei villaggi circostanti. La premier italiana, Giorgia Meloni, ha espresso la solidarietà dell'Italia al primo ministro marocchino, Zizza Cannucci, alle famiglie delle vittime e al popolo marocchino. Ha dichiarato che l'Italia è pienamente disponibile ad aiutare il Marocco in questa emergenza, la situazione rimane critica, e gli sforzi di soccorso e assistenza alle vittime sono in corso mentre si stimano le vittime in otre 700 unità.